Il potere del riciclo è qualcosa di cui sono una grande sostenitrice da sempre e non solo nella vita quotidiana ma anche nel mondo virtuale dei contenuti che creo periodicamente per la mia attività. Il web è sempre più affollato e quindi la nuova valuta per riuscire a ottenere letteralmente l'attenzione del tuo cliente ideale è creare contenuto di valore, cioè contenuto utile. Un contenuto che prima ancora di chiedere qualunque cosa al nostro potenziale cliente noi dobbiamo essere in grado di regalargli, di dargli, di offrirgli. Ora il primo posto dove molti dei nostri potenziali clienti ci trovano oggigiorno sul web sono senza dubbio i social. Un utente magari arriva su Instagram e comincia a seguirti per farsi una prima idea di quello che proponi e capire se effettivamente ci sono le basi per una relazione. Ora il problema qui è l'ispirazione. Sì perché anche laddove siamo super competenti in quello che facciamo e siamo super appassionate della nostra nicchia pubblicare con costanza ad un certo punto mette anche le imprenditrici digitali più ispirate e più creative a dura prova. Senza contare che oltre ai social che sono una minuscola parte del nostro ecosistema digitale abbiamo poi il nostro sito da aggiornare il nostro blog, da aggiornare la nostra newsletter, da inviare il corso, da creare la pagina di vendita, da scrivere e chi più ne ha più ne metta. Ecco avere sempre qualcosa di nuovo da dire è quasi impossibile ed è qui che entra in gioco il potere del riciclo. Questo potere del riciclo è qualcosa che puoi applicare all'interno dello stesso canale social oppure fra social diversi oppure fra setti digitali diversi che non c'entrano con i social. Ok adesso facciamo qualche esempio. Prima però come sempre se stai guardando questo video da YouTube ti ricordo di lasciarmi un commento qui sotto oppure se stai ascoltando questa puntata da iTunes, Spreaker, Spotify e di lasciarmi un feedback scrivendomi se queste puntate ti sono effettivamente utili e quali sono le parti che trovi più importanti per te. Questo mi aiuterà a capire che cosa affrontare nelle prossime puntate di Impact Girl. Allora il potere del riciclo dicevamo. Facciamo un esempio e poi e poi vediamo anche di rispondere alle obiezioni che so già ti verranno in mente quando ti spiego come funziona. Tempo fa ho fatto un salato digitale come chiamiamo gli appuntamenti live del podcast di Impact Girl sulle cinque ragioni o quattro ragioni non ricordo esattamente per aprire un blog quest'anno. Le ragioni in realtà sono tanti di più ma comunque a distanza di di qualche giorno quel salato digitale è diventato un carosello per Instagram, un post carosello, poi è diventato anche un reel per Instagram e un breve video per YouTube. Tutto nel giro di pochissimi giorni perché tanto il contenuto era sempre quello e tutto ciò che ho dovuto fare è stato ricrearlo in un format diverso. Quindi ogni blog post che fai ad esempio può diventare un carosello per Instagram oppure un post per Facebook e poi un reel che puoi salvare nel rullino per caricarlo su YouTube come video breve. Questo è un esempio di quello che chiamo riciclo attivo. Facciamo un esempio ancora più estremo di potere del riciclo per Instagram che chiamiamo riciclo passivo. Ok? Finita questa puntata scorri i tuoi feed di Instagram e torna indietro di almeno due mesi. Fallo da desktop per farti subito un'idea dei post che effettivamente in termini di cuori e commenti hanno performato meglio purtroppo i salvataggi non sono visibili se non proprio cliccando su ogni singolo post ma ci basiamo sull'engagement in termini di commenti e cuori. Trova un post che era andato già molto bene e selezionalo ok? Kick aggiuntiva tra parentesi. Se individui un trend per cui noti che un certo tipo di post con un certo tipo di fonte grafica funzionano spesso bene per il tuo account, salvali in una cartella. Questo ti sarà utile per capire quale stile prediligere nella fase di riciclo attiva, quella in cui riutilizzi, ricrei lo stesso contenuto in format diverso. Prendi il post che è andato molto bene e ripubblicalo così com'è. Ecco questo è un riciclo passivo nel senso che non implica nessuna riformattazione del contenuto. Ok? Ora la tua audience non si infastidirà affatto se decidi di pubblicare uno stesso post a distanza di qualche mese. Anzi te ne sarà grata per almeno tre motivi. Il primo è che parlando strettamente di social i tuoi followers continuano a cambiare. Quindi tra le persone che ti seguono oggi ci sono sicuramente persone che non ti seguivano due tre mesi fa. Ma se anche fossero le stesse persone a vedere lo stesso post la modalità scrolling dei social in generale rende impossibile per qualcuno o molto difficile per chiunque recuperare qualcosa che abbiamo visto mesi fa. Buonanotte, buona fortuna. Certo uno se lo può salvare ma non so tu. Io ho dei momenti in cui salvo tutto in cartelle superordinate per tema e poi moltissimi altri momenti in cui salvo tutto a caso e a quel punto ritrovarlo diventa impossibile a meno che non stiamo lì a scrollare per giorni. Quindi rivedere qualcosa che mi è stato utile e tale e quale perché magari sono passati mesi oppure vedere lo stesso contenuto riproposto in un format diverso ecco mi può solo che essere utile. Difficilmente mi infastidirò. Difficilmente noterò peraltro che effettivamente si tratta di contenuti uguali. Non andrò mai lì a pensare oddio guarda c'è Ceci che pubblica sempre la stessa cosa. Beh è chiaro che ci sono dei messaggi chiave della mia attività e come ci devono essere per la tua che si ripetono. Ma nel momento quindi già quella è una espressione di coerenza non di ripetitività. Se poi visto la modalità scrolling che abbiamo visto visto che i followers cambiano sempre inevitabilmente un sacco di persone o si perde i tuoi post oppure non li vede proprio è chiaro che riproporli può essere soltanto utile. Poi c'è anche da dire che ogni persona ha una modalità di consumo di contenuti preferita. Quindi il fatto di proporre lo stesso contenuto in formato diverso sarà molto apprezzato da chi magari preferisce scorrere uno slider piuttosto che guardarsi un reel. E infine ricordati che ogni utente saltella da un canale all'altro associato al tuo brand. Quindi dalla tua newsletter potrebbe finire sul tuo Instagram. Dal tuo Instagram potrebbe poi tornare sul tuo sito web cliccando il link in bio. E così facendo troverà un richiamo ai tuoi temi core, i tuoi temi centrali. Perché vedrà che parli non lo so di perfezionismo sul tuo blog. Ne parlavi anche in un carosello che ha cliccato per arrivare sul tuo blog. Ne parli anche nella newsletter di questo mese. E si ricorderà di di qual è effettivamente il motivo per cui ti sta seguendo e per cui ti apprezza. E a proposito questa puntata di Impact Girl nasce proprio dall'idea di un carosello che su Instagram trovi nei miei feed e si intitola come trovare qualcosa da pubblicare subito. E visto che ci siamo finito di registrare questa puntata ci faccio anche un reel in cinque minuti. Quindi il potere del riciclo attivo espresso in tempo reale. Ma prima di lasciarti se questa puntata ti è stata utile e stai guardando da YouTube questo video lasciami un commento sotto al video. Oppure se stai ascoltando questa puntata da iTunes, Spreaker, Spotify, qualunque sia la tua piattaforma di podcast preferita lasciaci una recensione e scrivici perché queste puntate ti sono d'aiuto. Per noi sarà importantissimo capire se siamo sulla strada giusta e per capire anche che cos'altro vorresti vedere e sentire su Impact Girl. Il primo podcast italiano dedicato alla crescita professionale e imprenditoriale tutta al femminile. Ci vediamo alla prossima puntata di Impact Girl. Questo è tutto per la puntata di oggi. Spero di averti dato qualche utile spunto che potrai implementare sin da subito. Se crescere un business in cui credi sul web in modo autentico e proficuo è parte dei tuoi piani e non sei ancora entrata a Biz Academy, puoi farlo visitando il sito biz-academy.it. Noi come sempre ci sentiamo o vediamo alla prossima puntata di Impact Girl.